Ciao, benvenuti in questo video, io mi chiamo Albaro Mito, oggi parliamo di strategie per fare ordine per sempre. In questo video scoprirai delle strategie che non hai mai sentito dire, né parlare, né raccontare da nessuna parte. Si basano sulla mia esperienza di vita da disordinati 19 anni per 19 anni, oggi sono attualmente ordinata da 5 anni e soprattutto di esperienza appunto lavorativa come consulente master, come formatrice a 360 gradi e come anche autrice del libro Casa Specchio della tua vita disponibile su Amazon. In questo caso andiamo quindi a svelare tutto quello che non sai, fino ad oggi ti sei quindi accontentata delle briciole che trovate online, di quello che sono delle soluzioni tampone e delle soluzioni purtroppo fallimentari. Oggi andiamo a parlare di soluzioni durature, efficaci e soprattutto veloci, facili da ottenere, quindi alla portata di tutti. Sono tutti metodi e protocolli già testati, pluritestati da centinaia e centinaia di donne ogni singolo giorno, quindi è assolutamente anche alla tua portata. Il primo passo che devi sapere è che prima di mettere in mano le tue cose bisogna partire da un passo fondamentale che è quello di fare chiarezza, è potente fare chiarezza su di sé, sulla propria casa, sulla propria vita. Perché? Perché senza questo purtroppo la tua linea, il tuo percorso sarà generico, sarà poco chiaro e quindi anche le tue scelte lo saranno di conseguenza e questa confusione iniziale porterà ad una confusione anche finale e di conseguenza non ci sarà ordine ma ancora del nuovo caos. Poi avere un protocollo, in questo caso il protocollo scelgo me, che è il mio protocollo personale, grazie al quale tu saprai esattamente quali sono tutti i passi che dovrai fare. Un passo alla volta, tutti e anche i minimi passi. Perché? Perché? Perché mentre tu fai ordini, ti puoi determinate domande che sono di tutto naturali. Io stessa me le sono poste, quindi capisco perfettamente già i tuoi dubbi. le tue perplessità, ma anche delle difficoltà che uno può incontrare. Quindi è importante che tu abbia già la soluzione, che ti sia già schiarita, poi vedi che si sta rannuvolando e già invece sta venendo l'arcobaleno e il sole. Questo è fondamentale perché se tu sai tutti i passi che dovrai fare, vedi proprio il percorso all'inizio, alla fine, quindi sai che devi fare A, B, C, D, e sai quindi come dovrai farli, come, quando, perché. Quindi questo ti rasserena perché avendo tutto chiaro sai che è assolutamente a tua portata, non ci saranno sorprese e poi perché hanno già fatto tantissime persone prima di te. Quindi non sei assolutamente in fase sperimentale. Poi devi conoscere assolutamente i due metodi fondamentali, che sono delle strategie che ti consentono di riuscire a fare il percorso di riordino, a fase di selezione delle tue cose di cernita, in maniera tranquilla, fluida, veloce, in pochissimo tempo, anche dieci minuti, e riuscire a non avere mai, e dico mai, rimorsi sulle tue scelte. Mai. Quindi ti serve il metodo di esclusione e poi il metodo SAR. Perché? Perché un percorso di riordino poi deve però andare a fissare quelli che sono i punti fondamentali per il mantenimento dell'ordine appena ottenuto. Ovviamente questo deve essere conosciuto, devi sapere che cos'è, devi sapere qual è. Senza di questo non potrei mai mantenere l'ordine, che hai ottenuto. Quindi noi dobbiamo lavorare ad un livello di chiarezza, avere un protocollo di azione, avere i due metodi fondamentali di cernita, quindi selezione delle tue cose, per farlo in poco tempo, senza stress e senza ansia, e poi il mantenimento che ti assicurerà un ordine duraturo per tutta la vita. Io ti dico queste informazioni, sono tutte strategie che tu però potrai conoscere, saranno rivelate al mio video evento in esclusiva mondiale che si terrà mercoledì 10 novembre alle ore 21, puoi registrarti cliccando il link che trovi in descrizione di questo video, è un evento gratuito, 100% online, che si terrà live senza repliche. Grazie a questo video evento infatti potrai quindi finalmente scoprire quali sono i segreti nascosti dietro l'ordine duraturo e come ottenerlo senza ansia, senza stress e in poco tempo. Ci vediamo all'evento, ciao!